La legge è attualmente passata ieri alla Camera in modo definitivo, quindi adesso va al Senato, entro qualche giorno perché non ci sarà nodi, finché diventerà definitiva legge dello Stato. In sostanza interviene principalmente su due articoli di codice penale, il 52 e il 55, che riguardano rispettivamente la legittima difesa e l'eccesso colposo di legittima difesa. In sostanza, senza entrare in dettaglio, casomai lo spiegheremo in altre sede, toglie discrezionalità in certi casi al giudice di valutare negativamente, in sfavore dell'aggredito, certe situazioni. Una balla che va detta e che qualcuno dell'opposizione ha ripetuto anche in aula, come si può vedere dai verbali, è che così si dà licenza di sparare. Non è vero. Se, per prendere l'esempio fatto da qualcuno, il ragazzino che entra nel giardino e ti prende la palla e gli spari, ti prende l'ergastolo esattamente come prima. È chiaro che il soggetto che in determinate situazioni, cioè dentro casa sua o dentro luogo di lavoro, subisce un'aggressione e vede che è in pericolo la persona o anche le cose, può reagire in modo certo proporzionato, ma laddove cedesse, adesso può essere comunque assolto, laddove dimostra, ad esempio, di aver agito in stato di grave turbamento. Un altro dettaglio importante, per esempio, è che anche in caso di confermato eccesso colposo di legittima difesa, non è dovuto risarcimento. Cioè, uno ti aggredisce, tu magari gli fai la bua e dopo tutta questa vicenda sei anche condannato a pagargli un risarcimento. Con questa norma sarà molto più difficile, comunque non sarà più un risarcimento, ma è quindi inizio. In sostanza, non è il far west, come qualcuno vuole far credere, ma semplicemente una migliore descrizione e migliore valutazione delle condotte della persona in quel momento.